Ringrazio Bruna perché ci ha regalato questa grande emozione come avevamo iniziato, chiudiamo con una sposa un po' particolare perché è vero che tutti noi nell'immaginario collettivo abbiamo la sposa in bianco e in alorio però ci sono anche tutte le spose che sciolgono qualcosa di diverso e abbiamo una mia sposa Grazie 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 Grazie